Superato il primo steppo, turno che si voglia, 2-0 senza pensarci su due volte allo scauri, l'Allianz Sansevero si prepara alla semifinale play-off valida per la promozione in A2 di pallacanestro, dove incrocerà al meglio delle cinque partite la Virtus Arichi Salerno, avversario da prendere con le classiche molle, ma alla portata del quintetto di coach Salvemini. I campani giungono alla sfida con i Sanseveresi, dopo il quarto posto nel Gisone D in regular season e il successo nei quarti per 2-1 e non senza sofferenze con Senigallia. Si comincia domenica al Falcone Borsellino con gara 1, palla 2 ore 19.15, si prosegue ancora sul parcheggio all'onero due giorni più tardi, martedì 15 maggio con gara 2 ore 21.15, si sposterà alla pala Silvestri di Salerno per gara 3, venerdì 18 alle 20.30 e l'eventuale gara 4, domenica 20 alle 18.00, infine, se dovesse rendersi necessaria la bella, si tornerà a Sansevero mercoledì 23 alle 21.00, una maratona che vedrà protagoniste nell'altra semifinale del tabellone C, Palestrina 2-1 al Campli e Stella Azzurra Roma, che ha eliminato nei quarti Biscegli in tre partite per un derby che si preannuncia dal pronostico decisamente incerto.